In questo video c'è un trenbare verben. Ma cosa sono i trenbare verben? I verbi separabili sono verbi che appunto sono formati da due parti, da un prefisso, in questo caso sarebbe AUF, e poi dal verbo Hängen, quindi appendere abbiamo AUF Hängen. Quando coniughiamo appunto il verbo AUF Hängen, la particella AUF si stacca dal verbo e si posiziona in fondo alla frase. AUF Hängen. Mettiamo quindi l'accento nel verbo separabile sul prefisso AUF, appendere. Quando coniughiamo il verbo, coniugheremo il verbo Hängen, si hängt das Bild auf, e metteremo in fondo alla frase il prefisso appunto del verbo. I verbi separabili hanno quindi dei prefissi che si spostano in fondo alla frase. Assomigliano spesso a delle preposizioni, come per esempio AB, ma non sono preposizioni, sono semplicemente dei prefissi. ABFAHRN, oppure ANFANGEN, AUFHÖREN, aussteigen, beilegen, einkaufen, fernsehen, herkommen, hinfahren, mitfahren, nachdenken, vorlesen, vorbeigehen, weiterspielen, wegwerfen, zuhören, zurückfahren. Abbiamo quindi visto, ne manca uno, zusammensitzen. Abbiamo quindi visto, ab, an, auf, aus, bei, ein, fern, hier, hin, mit, nach, fuhr, vorbeige, weiter, weg, zuhören, zurück, e zusammen. Sono tutti prefissi appunto di verbi separabili. Rivediamo ancora tutte le particelle. ab, an, auf, bei, ein, fest, her, hin, los, mit, nach, fuhr, weg, zuh, zurück, e zusammen. Partiamo adesso da ab. Vediamo quelli, diciamo, più usuali. Abfahren, partire. Abgeben, consegnare. abholen, andare a prendere. Abhängen, dipendere. Abnehmen, diminuire. Abschreiben, copiare. Absteigen, scendere. Abtrocknen, asciugare. Poi abbiamo anbieten, offrire. Anfangen, cominciare. Angeben, indicare. Anhalten, fermarsi. Ankommen, arrivare. Annemen, accettare. Anprobieren, provare. Anrufen, chiamare, telefonare. Anschalten, accendere. Anschauen, guardare. Ansprechen, rivolgere la parola. Abbiamo anche anziehen, o meglio, sich anziehen è riflessivo, vestirsi. Poi abbiamo quelli con auf. Aufgehen, sorgere. Aufhören, smettere, terminare. Aufhängen, appendere. Aufmachen, aprire. Aufnehmen, accogliere. Aufschreiben, prendere nota. Aufstehen, alzarsi. Aufwachsen, crescere. E aufwachen, svegliarsi. Vediamo ora la particella aus. Ausgeben, spendere. Ausgehen, uscire. Sich ausruhen, riposarsi. Questo è riflessivo. Ausschließen, escludere. Aussehen, avere l'aspetto. Aussprechen, pronunciare. Aussteigen, scendere. Da un mezzo di trasporto. E sich ausziehen, spogliarsi, togliersi un vestito. Vediamo ora bei. bei. Beilegen, allegare. Abbiamo poi la particella ein. Einfahren, quando appunto si fa il rodaggio. Einkaufen, fare la spesa. Einladen, invitare. Einschlafen, addormentarsi. Einschließen, includere. Einsteigen, salire. Eintreten, entrare. Vediamo ora fern. L'unico verbo è fernsehen. Guardare la televisione è appunto un verbo separabile. Poi abbiamo her, her, hin. Partiamo appunto da herkommen, venire. Herausnehmen, levare. Hereinkommen, entrare. Herunterkommen, venire da sopra. Ervorholen, togliere. Poi abbiamo hin. Hingehen, andare la. Hinlegen, mettere la. Hinstellen, mettere la. Poi abbiamo il prefisso mit. Mitfahren, andare con. Mitkommen, venire con. Mitnehmen, prendere con. E mitspielen, giocare con. Poi abbiamo la suffisso nach. Nachdenken, riflettere. Nachsehen, andare a vedere. Poi abbiamo il verbo stattfinden, stato appunto separabile, l'unico. Avere luogo. Poi abbiamo vorlesen, leggere ad alta voce. Vorschlagen, proporre. Vorschreiben, prescrivere. E poi abbiamo il verbo riflessivo, sich vorstellen, che ha due significati, nel senso di presentarsi e di immaginarsi. Poi abbiamo forbei. Forbei gehen, passare davanti. Passare da. Forbei kommen, è come appunto forbei gehen. Poi abbiamo weiter. Weiter spielen, continuare a giocare. Weiter lesen, continuare a leggere. Poi abbiamo weg, il suffisso weg. Wegfahren, andare via. Weggehen, anche andare via. Nel primo caso con un mezzo di trasporto nel secondo a piedi. E wegwerfen, gettare via. Poi abbiamo il suffisso zu. Zu hören, ascoltare attentamente. Zu kommen, venire verso qualcuno. zu lassen, ammettere, permettere. Zu machen, chiudere. Zu nehmen, aumentare, per esempio anche di peso, ingrassare. Poi abbiamo il suffisso zurück. Zurückfahren, andare indietro. Zurückgehen, anche andare indietro. Zurückkommen, ritornare. Zurücklenen, appoggiarsi. E sich zurückziehen, ritirarsi. E per finire abbiamo zusammen, zusammen sein, essere insieme, e zusammen sitzen, sedere assieme. In questo video abbiamo visto i prefissi dei verbi separabili. Ricordati che quando appunto devi coniugare un verbo devi mettere in fondo la frase i prefissi ab, an, auf, aus, bei, ein, fern, hin und her, mit, nach, vor, vorbei, weiter, weg, zu, zurück e zusammen. La cosa migliore è studiare per ognuno di questi suffissi un verbo in modo che tutto lo possa ricordare. Ab, an, auf, bei, ein, fest, hier, hin, ab, los, mit, nach, vor, weg, zu, zurück e zusammen. Ecco gli esempi che ho scelto per te. Partiamo dal primo verbo con la particella ab, abholen, andare a prendere. Ich hole beim becker die Brötchen ab, vado a prendere dal panettiere i panini. Ankommen, arrivare. Wir kommen morgen in Bern an. Aufstehen, alzarsi. Ich stehe meistens um sieben Uhr auf, mi anzo perlopiù alle sette. Beibringen, insegnare. Ich bringe dir Deutsch bei, ti insegno il tedesco. Einschalten, accendere. Ich schalte den Computer ein, accendo il Computer. Fernsehen, guardare la televisione. Er sieht den ganzen Abend fern. Guardare la televisione tutta la sera. Loslassen, lasciare. Sie lässt ihren Hund los, quindi non lascia andare. Altri prefissi separabili sono, mitkommen, venire con, kommst du auf die party mit, vieni con me a la festa, nachdenkend riflettere, er denkt darüber nach, ci riflette sopra. Stattfinden, avere luogo. Die Sitzung findet morgen in die Stadt. La riunione domani non ha luogo. Weck gehen, andare via. Ich gehe jetzt weg, adesso vado via. Zu machen, chiudere. Ich mache die Tür zu. Chiudo, la porta. Zurückkommen, ritornare. Morgen kommt ihr aus Bern zurück, domani ritorna da Bern. Zusammenspiele, giocare insieme. Die Kinder spielen zusammen. Quindi abbiamo visto che con queste particelle, con ab, con an, con auf, con bei, con ein, eccetera, 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 abbiamo il verbo separabile. Quindi abbiamo visto, ich räume das Geshir ab. Devo mettere quindi in fondo la frase nella mia particella del prefisso abräumen. Quindi riordinare das Geshir, quindi le stoviglie. oppure ich bringe den abfall hinaus. Quindi porto fuori la spazzatura. Il verbo in questo caso è hinausbringen. Oppure ancora mitnehmen. Ich nehme mein Handy mit. Porto con me il mio telefonino. Oppure leist du mir dein Handy aus? Mi presto il tuo telefonino. Ma se utilizziamo appunto delle congiunzioni, quindi abbiamo delle subordinate come weil, come das, come ob, come wenn, come als, eccetera, in questo caso nella nostra subordinata il verbo si unisce nuovamente alla sua particella. Quindi al posto di dire la ist du mir dein Handy aus? Quindi mettendo in fondo la particella aus nella domanda in diretta che introduce appunto una subordinata ich habe ihn gefragt, quindi gli ho chiesto, ob ihr mir sein Handy aus lie? Quindi se mi presta il suo telefonino. In questo caso con ob dovremo mettere il verbo in fondo alla frase, ma appunto la particella del verbo si unisce nuovamente al verbo. Nel prossimo video vedremo i suffissi dei verbi inseparabili. Quindi verbi che cominciano con be, ent, ent, er, ge, hinter, miss, fer, et ser. Questi sono sempre inseparabili, ma ne parleremo nel prossimo video.